Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio e tra Incisa Reggello e Firenze Sud per Curiosi. In A1 in direzione Bologna ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano ed il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili per intervento di ripristino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Possibili disagi in entrambe le direzioni per i lavori di messa in sicurezza del tratto compreso tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. La viabilità cittadina a Firenze. In via Reginaldo Giuliani restringimento di carreggiata all'altezza del sodo per lavori. Buorsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio. Grazie a tutti.